La terza commissione consigliare ha esaminato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha riconosciuto alle associazioni di volontariato la possibilità di svolgere trasporto sanitario di urgenza e di emergenza con affidamento diretto, senza gara d'appalto. Una sentenza arrivata dopo il ricorso di due cooperative contro la convenzione stipulata dall'ASL 5 Liguria per il trasporto sanitario di urgenza senza gara d'appalto. I giudici hanno stabilito che il modello Ligure ha mantenuto un servizio accessibile a tutti e ha perseguito gli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. La sentenza potrà consentire modifiche e semplificazioni al regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria prima di tornare all'esame della commissione presieduta da Massimo Bucconi.